a nome del comitato di festival letteratura A nome del comitato di festival letteratura ringraziamo gruppo TEA per aver contribuito alla realizzazione di questo evento a mettere gli accenti al posto giusto Marta Bacigalupo e Luca Pareschi Buonasera, bentornati Bentornati, fino a mezz'ora fa Giorgio Brizio stava affermando che ci sono una marea di cose che si possono fare per remare contro il cambiamento climatico Nella prossima mezz'ora infatti ne parlerà con Willy Pejote per cercare di capire almeno sui temi green come potremo evitare di fare schifo Altra marea, l'accento di Willy Pejote e Giorgio Brizio inizia ora Allora, ciao a tutti e tutte Ciao, buonasera La prima cosa che ci hanno detto molto bella è che per la pioggia, la clessidra probabilmente non funziona così bene quindi avremo forse un pochino più tempo E io ne ero estremamente preoccupato perché non credo che nessuno di noi due abbia il dono della sintesi Io di sicuro no, tu lo vedremo Ehm... No, sono contentissimo di questo momento assieme, spero venga fuori una bella chiacchierata, sono contento di essere qui, non ero mai stato a Festival di letteratura e neanche tu Neanche io E quindi, dagli insomma Allora, mi sono sempre chiesto, intanto noi siamo due torinesi, siamo due sabaudi Willy nel libro si definisce anche antifascista, antiguentino, antieroe, antipatico Io invece sono assolutamente juventino e quindi questa è una delle cose su cui litighiamo di più Non mi hai fatto ancora però Ma sì, dai Possiamo iniziare stasera Un pochino, un pochino Ehm... Mi sono sempre chiesto, visto che c'è una scena comunque penso musicale torinese forte, anche impegnata, anche più recentemente Vabbè, se penso più indietro penso ai Subsonica, agli Africa United e Mao Mao Se penso invece più di recente magari a Regioni Via di Gioia, no? Magari altri gruppi Che tutti, per un motivo o per l'altro, negli ultimi anni si sono trovati a parlare di clima O portare avanti, insomma, questo tema E conoscendoti ormai, anche se non bene, da un po' di tempo Anche la prima della pandemia, mi sono sempre chiesto Ehm... A cui li interessa? Si è già, come dire, esposto su una serie di tematiche Ehm... Forse a te, giustamente interessano le questioni più sociali Ehm... Ho pensato che la questione climatica non viene ancora vista come una questione sufficientemente sociale, no? E allora da qui vorrei partire Da... Da una citazione che diciamo entrambi spesso ed è di Cico Mendes Quindi la lotta ambientale senza lotta di classe o lotta sociale È solo giardinaggio E quindi, insomma, rispetto a questa cosa dobbiamo assolutamente confrontarci Ehm... E tu nel libro scrivi Ehm... Non è questione di corporazioni ma di condizioni sociali Una volta si sarebbe detto di classi Ora la parola, come molte altre, non si porta più Beh, quella è una frase di Pippo Civati in realtà Perché il libro è una chiacchierata tra me e appunto Pippo Che aveva promesso di essere solo un editore Invece adesso è tornato in politica, quindi Ehm... Insomma... Ah, si è sbugiardato No, dicevo, io uso sempre la frase di Cico Mendes Perché sono convinto appunto che si debba riportare anche un po' il concetto di lotta sociale Ma in generale nell'agenda comunicativa Non tanto quella politica che poi, per quanto retorica, un po' qualche accenno lo fanno Alle questioni sociali Per quanto riguarda invece gli influencer, per quanto riguarda i cantanti Per quanto riguarda tutta invece un'altra classe di comunicatori Stiamo tanto a parlare di lotte civili, giustamente Ci dimentichiamo che le lotte civili senza le lotte sociali Sono fondamentalmente delle lotte individuali Ognuno per il proprio tornaconto e non per un tornaconto collettivo Ecco, il colgetto di collettività secondo me si è perso È evidente che la lotta climatica sia una lotta collettiva E così debba essere vissuta In quanto tale è chiaramente anche una lotta sociale Però ci dimentichiamo di comunicarla in quel modo lì Forse perché non ha lo stesso appeal Forse perché parlare di lavoro, parlare di classi, parlare di certi concetti Mi fa sembrare ancora più boomer di quello che già io non sia Però sono concetti vecchi, vetusti Oggi non parliamo più, appunto il concetto di people Lì diceva che la parola classe non si usa più Ma si è perso proprio il concetto di consapevolezza di classe Nel senso che poi se vivi in un'epoca Nella quale tutti, l'unico obiettivo che hanno è quello di diventare miliardari Non di fare qualcosa nella vita Ma semplicemente di essere ricchi E si è annichilito tutto Nel senso che poi è quello che blocca il concetto di lotte sociali Perché se il tuo obiettivo è quello di essere Gli uomini più righi del mondo hanno fatto le torte a qualcuno per forza di cose Proprio per logica Perché se no ridistruggi Cioè in qualche modo distribuirebbero la propria ricchezza Se pensassero alla collettività in qualche modo Quindi il senso è Che dobbiamo tornare a non vedere così i vecchi E non basta andare su TikTok a dire le cose per sembrare meno vecchi E proprio cercare di Rendere tangibili i concetti Oggi nessuno parla di lavoro E tu dici non c'entra niente col clima In realtà c'entra perché L'evoluzione anche Dell'approvvigionamento energetico Di tutta una serie di cose Cambierebbe anche le condizioni dei lavoratori Cambierebbe anche le condizioni Nelle quali ci muoviamo Come cittadini per raggiungere il luogo di lavoro Ci sono tutta una serie di concetti che toccano Una classe che però Sembra che nessuno lavori più in questo paese Invece siamo tutti costretti a lavorare otto ore al giorno Tendenzialmente Poi io faccio un lavoro diverso Ma ho lavorato tanto tempo in un call center Che è veramente un posto di merda E quindi conosco le condizioni dei lavoratori E anche lì non si parla mai di lavoro Si parla di tantissime cose bellissime Utilissime Ma non si parla mai di lavoro Non si parla mai di questo tipo di concetti Che secondo me E quindi per quello che io Non parlo degli altri concetti di cui parlano tutti Perché mi sento orfano di una rappresentanza Su certi altri argomenti Quindi che però sono legati Cioè non è che tu mi devi portare dalla tua Io sono già dalla tua È evidente Il punto è solo che io cerco di mettere l'attenzione Anche sul fatto che non si possiamo dimenticare Di determinati aspetti della lotta Perché se no Non siamo più tutti insieme fondamentalmente Certo Nel libro emerge anche La cito volentieri Perché mi sembra bella nella sua totalità Ma ancora oggi non riesco a non provare Un lieve fastidio in automatico Quando mi trovo di fronte a esponenti Dei casi sociali più alte della polazione Quell'atteggiamento sprezzante di coloro Che danno per scontato Che tutti abbiamo avuto le stesse possibilità E chi non ce l'ha fatta è più coglione Di loro mi fa proprio incazzare Nessuno mi toglierà dalla testa Che se cresci in un contesto In cui davvero a disposizione tutte le chance del mondo Sarà naturalmente portato A creartene di più nella vita E a saperle cogliere meglio Anche lì c'è un esempio di questi giorni Il figlio di Briatore Ha 12 anni CEO di un'azienda Io ne ho 37 Non sono mai stato CEO di niente Nel senso E non sono neanche cresciuto Nel posto peggiore del mondo Io sono di Torino Della provincia di Torino Ho anche avuto la fortuna di essere Come tutti Credo i presenti Classe media Quindi comunque Sono sempre stato bene Però sta cosa Io soffro questa cosa Ma Se voi la riprendiamo un po' più dall'inizio Tornando anche a quello Che dicevamo prima Il problema sono Anche un po' Non dico i simboli Ma Come dire I miti Gli idoli che ci facciamo Io sono cresciuto con degli idoli Che non Che avevano un approccio particolare E che non volevano Non erano miliardari Cioè Zack della Rocha Lascia I Raid against the Machine Per andare a lottare in Chiapas Nel momento migliore della sua carriera Nessun artista oggi farebbe una cosa del genere E per me lui era il mio idolo Quindi Crescendo Leggendo anche solo Bukowski Che adesso è abusato Nelle foto Dei culi al tramonto Però in realtà Scriveva anche delle robe fighe E E non ha mai avuto l'obiettivo Di essere ricco Raccontava un'altra parte Della popolazione Ma lo stesso vale per Pennac Per altri autori Che meno Per Wallace Se tu cresci Guardando solo appunto Persone che come obiettivo Hanno quello economico Che poi è il concetto Capitalista della nostra vita È tutto solo Escutivamente Massimizzazione del profitto Che siano le views Che faccio io con un video Che siano i dischi che vendo È solo massimizzazione Devi solo massimizzare Quindi Se è tutto solo sui numeri Se è tutto solo fare uno in più Di quello che hai fatto ieri E Abbiamo Cioè Siamo tutti sulla stessa barca Che tu parli di Criptovalute O parli di Appunto Visualizzazioni O parli di euro Stai parlando dello stesso concetto Cioè L'unico obiettivo che hai È quello di crescere Di un'unità in più Ogni volta E se non cresci di un'unità Anche la classe politica Si dimentica questo Non facciamo i nomi Non serve Però Tantissimi sono Figli di E non c'è niente di male Non è che uno debba Pagare per gli errori del padre Né vergognarsi Di essere figlio Di qualcuno Però deve ricordarsi che Se si è Già sotto la letta di ingrandimento Perché il punto è che Siamo tantissime persone Al mondo E farsi vedere In qualunque contesto Uno lavori È già difficile di per sé Ecco Se tu arrivi Da una situazione Nella quale la luce È già accesa Le occasioni arrivano Questo è il senso E a me disturba Conosco Ho avuto Conoscenze di persone Della Torino bene Della Milano bene E loro non considerano mai Il fatto che abbiano avuto Più culo Semplicemente a nascere In quella famiglia lì E pensano che Sono più bravi A prescindere Dopodiché Al tempo stesso Non mi sono mai messo A fare la lotta Il braccio di ferro Nel dimostrare Io A me piace Un altro tipo di approccio Alla vita Non mi interessa Essere in un resort 5 stelle Vado in trattoria E mi piace E mi piacerebbe Raccontare E tornare A coltivare Una Come dire Una scuola Di pensiero Che è quella Che ha cresciuto me Perché se io sono Questa roba qua Non è perché sono nato così Nessuno di noi nasce Con dei concetti Sono stato educato così Non dai miei genitori Ma anche dalle scelte Che ho fatto Nei miti che mi sono scelto Nei libri che ho letto Nelle persone Che ho pensato Avrei voluto diventare E questo secondo me è importante Non perché debbano voler diventare Me nella fattispecie Ma cercare di proporre Un'alternativa All'essere Miliardari Può essere interessante Perché Che palle Direi che la questione climatica Rientra perfettamente All'interno di questa cornice Di ricchezza E di voluta crescita Infinita Non ci si ferma mai Se l'obiettivo è crescere Costantemente Cioè non c'è un limite Però secondo me È un gioco a somma zero In fondo Anche la finanza Non è possibile concepire La crescita come infinita Come smisurata Qualcuno ci perde sempre Ma vale per tutti i concetti E non è possibile immaginare Che investendo in qualcosa Quella cosa cresca all'infinito Non esiste in natura Nulla che cresca all'infinito Eppure il nostro sistema capitalistico Va in quella direzione Ti dice così Poi non è così Evidentemente Perché dal 2008 Abbiamo dimostrato Che la finanza ha fallito E per non accettare il fallimento Copre costantemente Nell'arco della storia In modi che vediamo ancora oggi Il fallimento Perché non può ammettere Di aver fallito il sistema Certo Parlavi di lavoro Di alternativa Ci tengo a citare Un'esperienza Secondo me Molto bella Che spero possa essere Sempre più bella Che quella della GKN In Toscana GKN era E una fabbrica Che è stata come tante Delocalizzata Perché poi Produrre in altri posti Del pianeta Chiaramente Sfruttando risorse E persone È divenuto più comodo E più facile E allora Loro si sono Opposti In modo forte A questa delocalizzazione E hanno provato A dare un'alternativa Quindi convertendosi Iniziando per esempio A creare trasporti pubblici Visto che loro Erano un'azienda Che è come dire Una fabbrica Che si concentrava Soprattutto sulla questione Dei trasporti Mettendo al centro La questione climatica Ecologica E all'inizio Io vedevo sinceramente Da inesperto attivista Con grande scetticismo Questa possibile unione Convergenza La chiamano loro Tra i movimenti Climatici Ecologici E l'avvertenza Dei laboratori Invece Penso sia più che mai Necessaria Sì ma Perché di nuovo Anche il sistema Di approvvigionamento Delle energie È strutturato Per far guadagnare Chi investe in quello Gli stakeholder Ma anche chi Possiede le risorse Di nuovo Stiamo ragionando Nell'ottica di far guadagnare qualcuno E non sul costruire un futuro Non sul rendere più accessibili La sanità Stiamo lavorando Non come paese Non noi personalmente Ma la struttura Politica Lavora Da tempo Per fare in modo Che tu scelga Sempre la sanità privata Quella pubblica Distruggendo la sanità pubblica Questo vale per Perché non si investe Nelle energie Perché Alcuni paesi del mondo Che controllano Anche solo Le zone Nelle quali esiste il petrolio Non hanno tutto Questo interesse Ma E di nuovo Tu pensi Non c'è tra niente I mondiali si fanno in Qatar Per dire una stronzata Così a caso Così A novembre Non si sono mai fatti I mondiali a novembre Hanno cambiato le regole Di qualunque cosa E come lo fai Col grano E come lo fai il grano Imponendo le tue scelte A tutto Cioè di nuovo Tu pensi È tutto collegato Uno dice Il pallone non c'entra niente Il pallone c'entra Come c'entra tutte le attività Della nostra Dell'attività umana Anche il pallone dimostra Che stiamo andando in una direzione Che è Assolutamente incontrollabile I mondiali in Qatar A novembre Perché sono stati decisi Dal governo del Qatar Ti fanno capire Ti fanno capire Quanto è il peso specifico Di determinate Lobby Non lo so Come le possiamo Corporazioni Come le possiamo definire Non è una singola persona Evidentemente Però quindi sì Anche per i lavoratori Andrebbe Affrontato il discorso Perché di nuovo Se l'imprenditore Deve puntare a fare Un euro in più di profitto Ogni giorno Certo che Delocalizzerà Andrà in posti Nei quali Costa meno Perché ci sono meno diritti E la ruota Continua a girare Quindi cosa proporrai Di abbassare i diritti Nel nostro paese Per mantenere le aziende qua Perché è l'unica cosa Che puoi fare E siccome non lo puoi dire Perché vivi in un paese europeo E che ha una struttura di welfare Tale per cui Non lo puoi neanche dichiarare Farai in modo Che le cose Le distruggerai Piano per volta In maniera capillare E però quindi È tutto collegato E quindi ti dico Poi io non faccio terra Come fanno gli eugenivi di gioia Non faccio Quei pezzi lì E non arrivo Dalla generazione Per cui si Si scende in piazza E si protesta pacificamente Perché io sono figlio del 2001 Del G8 del 2001 Di Genova Io non sono stato lì Perché avevo 16 anni Ma molti amici sono andati Io non riuscii ad andare E noi arriviamo da una generazione Che nelle proteste Era un filino più incazzata E quindi Faccio fatica A immedesimarmi troppo In questo modo pacifico Troppo pacifico Per il mio punto di vista Di protestare E quindi è per quello Che magari non mi metto A fare il portavoce Di quel movimento Perché non mi sento Di rappresentarlo appieno Perché sono di un'altra generazione Ma evidentemente Sono vicino In altro modo Cercando di portare Come dire La luce Su altri argomenti Che aiutano Il movimento stesso Però non mettendomi davanti Perché poi Non è mio interesse Essere davanti Al movimento Sono contento Tu abbia citato il G8 Poi non ne parlo Perché non ne so Ma Però quella roba lì Ha cambiato anche Il modo di Cioè Per anni si è detto Che i giovani Non scendevano più in piazza Perché nel 2001 Li hanno sparato Ai giovani in piazza Li hanno picchiati Li hanno massacrati È stata la più grande Sospensione dei diritti In un paese europeo Dalla fine Della seconda guerra mondiale Esatto Definita così Non da me Evidentemente E quindi Quella roba lì Ha cambiato le sorti E avevamo già ragione Noi 21 anni fa Cioè Erano già le stesse cose Si parlava della globalizzazione Solo che sembrava una roba Che non voleva dire niente Era esattamente Quello che stiamo dicendo oggi Solo con un termine Magari Un po' più vago Perché Perché lo stava prevenendo E non lo stava prendendo In corsa Però Era già quello E però Come l'hanno risolta La questione In maniera abbastanza Veemente E per vent'anni Sembrava che i giovani Non scendessero più in piazza Però la mia generazione È stata picchiata Torturata E uccisa in piazza Quindi Non era esattamente così E secondo me Il 2001 Andrebbe ricordato Molto più spesso E invece Ce lo siamo già dimenticati tutti Invece Non è così Non è solo Carlo Giuliani È proprio Come è stato gestito Come è stato gestito Quell'evento E come è stata bloccata La protesta Di Globale Perché era globale Perché era internazionale E Non abbiamo mai fatto pace Con quella cosa lì ancora Certo Prima parlavi C'è stato De localizzazione In risposta a quello che dicevo Io spero E credo Che non ci sia Solo alternativa A Come dire Abbassare i diritti Anche nel nostro paese Per evitarla Ma al di là di questo Poi Ne discutiamo Volendo di più Ci sentite Laggiù in fondo Intanto Sì Bene Ecco In curva nord Ci sono Io Non volevo Sicuramente Oltrepassare La questione di Genova Io mi sento figlio Di Genova 2001 Quando Quando i carabinieri Caricarono Il corteo Delle 20.000 Tutte bianche Su Vietole Maide Insomma Mio papà era lì Mia mamma era A casa Col pancioni Io sono nato Due mesi dopo Genova 2001 Quindi E sono stato Tutte le state scorse A Genova Per ripercorrere Un po' Quei momenti E capire anche Cosa può cambiare Cosa può rimanere Nell'attuale Alleanza Di movimenti In realtà Climatiche Sociali Eccetera Prima dicevi Non si può Più parlare Di niente Invece Qui stiamo parlando Di tante cose Mi sembra Quando avevi scritto Il libro C'era quel momento In cui si diceva Non si può più dire niente Poi sono arrivati Piame Deo E hanno rovinato Quella frase Non si può più dire Non si può più dire niente Adesso il punto È che dire quella frase Sei subito Del clan Piame Deo E quindi non si può dire Però il punto Non è che non si può dire niente È che tutti Viviamo troppo sul personale Le cose che vengono dette E a me dispiace questo Cioè Chiunque faccia una battuta La prendi subito sul personale Se qualcuno fa una battuta Per dire Su una roba In cui io mi rivedo Che sia Non so Il rap Il toro Qualunque Il torino Come città No È l'esa maestà A prescindere E questo che a me preoccupa Non che non si debba porre Dei limiti alla comunicazione Cioè io Faccio anche parte di un movimento Che ha cambiato modo di scrivere Di parlare Per noi Per i rapper Alcune parole Erano di uso comune Fino a Cinque anni fa Oggi Non le usiamo più E io per primo Ho tolto Una serie di parole Dal vocabolario Che utilizzo nei testi Perché è giusto Porci il problema Che la comunicazione Possa urtare qualcuno Non sono io a scegliere Se una parola È giusta o sbagliata Ma chi quella parola L'ha subita come insulto È evidente Questo è Assolutamente giusto Non è giusto Che se tu scrivi una cosa Su Twitter Qualcuno la prenda Come dice Ricky Cerveza È come se tu andassi Nella piazza Dove c'è scritto Lezioni di chitarra Tu prendi Chiami il numero Perché noi viviamo Tutto come se fosse Una lotta personale Individuale Perché viviamo In un mondo costruito Su misura In cui leggiamo Solo i giornali Che ci piacciono In cui ci confrontiamo Solo con le persone Che ci dicono Che hanno Abbiamo ragione Chi ci dice di no Lo blocchiamo E dovremmo aprirci un po' E quindi comunque Secondo me il problema È l'individualismo Anche nel percepire Come rivolto a te Una battuta Perché le battute Si possono fare Nel rispetto Della dignità altrui E se la comunicazione Va cambiata Perché sono due cose diverse Cioè non si può Si può decidere Che Cambiamo il linguaggio Non si può però Annichilire tutto Al Tutto quello che dici Mi offende Perché non è che Se ti offende Hai per forza ragione Ci sono delle volte In cui essere offesi Non ti dà ragione Puoi essere offeso Di qualcosa Che comunque è giusto Perché allora Non si può più Che ne so Non si può più mettere In discussione Lo Stato Cioè lo Stato Non può essere laico Perché qualcuno Si sentirebbe offeso Allora non si può più Non lo so Non si può impedire Di dire determinate cose Perché qualcuno Si sente offeso Nel non poterle dire Cioè per il paradosso Non si ferma mai Capite Come il discorso Sul DDL ZAN Sul fatto che qualcuno Dice no Così mi impedisci Di esprimere il mio pensiero Ho capito Ma tu stai chiedendo Ti stai sentendo Emarginato Perché non puoi Emarginare qualcuno Capisci che non ha senso Se tutti però Riteniamo i nostri diritti Totalmente inalienabili Il diritto di espressione Non è così granitico E unico Dipende dal contesto Dipende dalle persone Che hai di fronte Dipende dal concetto Che stai affrontando Non è che posso dire Tutto quello che cazzo Mi passa per la testa E questo è sacro santo Al tempo stesso Non si può vivere Tutto sul personale Non è che ogni cosa Che dico Qualcuno deve dirmi E però A me non piace la pizza Con l'ananas A me piace tantissimo Se è uno stronzo E diventa sempre Una lotta Su tutto Non posso esprimere Un'opinione Senza denigrare qualcuno Perché qualcuno Si sente offeso Perché a lui Quella cosa piace Capito La differenza è Non è tutto rivolto a te Ci sono delle cose Che vengono dette E tu le puoi ascoltare Non essere d'accordo E andare oltre Non è tutto rivolto a noi Non è tutto per noi Non è tutto costruito Intorno a noi Come la banca Medolanum Non è tutto così Dovremmo uscire Da questa cosa Sempre nel libro C'è una riflessione Secondo me bella Che parte Dai presenti capitoli Sul fatto che Non si possa dire Alcune cose E arriva anche Al fatto che Si faccia fatica Ormai a dubitare O sentirsi in dubbio Su alcune cose Fammi leggere questo Su tutti i temi Anche in politica Se fai parte Di un certo gruppo Di una certa fazione Non ti puoi più permettere Dubbi di nessun genere Se ti permetti Di discutere vagamente Di un tema Come la gestione Di flussi migratori Diventi immediatamente Salvini Se discuti la gestione Della pandemia Automaticamente Sei complottista Praticamente Terrapiattista Seguace di QAnon Allora Ieri parlavo Con una grande amica Che è Cecilia Strada E facciamo una riflessione Sul pacifismo In questo momento Perché se Si parla di pace In questo momento Se tu sei pacifista Vieni subito Etichettato Come O Estremamente Fino atlantista Oppure Dall'altra parte Come Sostenitore Di Putin E invece Io credo Ci sono delle sfumature Ci sono delle cose In mezzo E Quindi poi Vabbè Tu fai anche una denuncia Sulla questione La superficialità Cioè Si fa fatica Ad andare in profondità Su tanti aspetti E questo della guerra Mi sembra anche Uno di questi Su Su più Come dire La pandemia e la guerra Sono stati due Dei macrotemi Che hanno dimostrato Quanto polarizzata sia La comunicazione Quanto polarizzata sia La discussione Fra le singole persone Non si può Mettere in discussione Nulla Perché appunto Nel momento in cui Io mi metto a discutere Della campagna vaccinale Sono immediatamente Antivaccinista E al tempo stesso Se io mi metto a dire Che si potrebbe gestire In maniera diversa Al conflitto Sono immediatamente Filoputin A me spaventa un po' La maniera dozzinale Con la quale È tutto un derby Cioè Io sono del trollo Lui della Juve Il derby è bello È bello perché Allo stadio Si possono dire stupidaggini Si può essere Irrazionali Ma allo stadio Poi si esce Dallo stadio E quando si parla Non so Di appunto Della guerra Della pandemia Di temi Che non sono Una partita di pallone Bisognerebbe tutti tornare A essere Meno Paglio di Siena Che quindi Se dici una cosa Che non mi piace Allora sei per forza Sbagliato Io non solo Non ti ascolto Ma farò di tutto Per farti stare zitto A me questa cosa Spaventa È tutto troppo polarizzato Non stiamo Ma anche l'informazione Lo dimostra Non stiamo andando Non stiamo approfondendo I temi Non si è parlato Nello specifico Dei temi Si sono detti tanti numeri E poi si sono esposte Due teorie E nel mezzo Non c'è niente Cioè Nel mezzo Cosa Oggi Qual è la sfumatura Su un tema Come quello Del conflitto ucraino Qual è la sfumatura Dove sono le sfumature Chi parla Di sfumature E come viene Poi raccontato Dalla grossa informazione Che questo è anche il tema È minchia Nel senso che Eh sì Perdonate il francesismo È che Anche lì Ma anche lì Possiamo aprire il capitolo Di quanti sono i gruppi editoriali In questo paese Certo E mi spiace dirtelo C'entra comunque Anche la famiglia Agnelli In questo Perché il gruppo Jedi È il gruppo Che controlla La maggior parte Delle testate giornalistiche Di questo paese Ed è di proprietà Della famiglia Agnelli Del Cane Insomma È il gruppo Exor E tutte quelle belle lì Di nuovo Questa è una critica Sulla Juve No no Questa è una critica Ai grossi poli Ai grossi poli Assolutamente accettabile Fammi dire questo E non è una battuta No 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 Ma hai fatto benissimo C'è anche sotto in classifica Quindi Hai fatto benissimo Per tre minuti Poi finirà Hai fatto No ma all'inizio ha detto No ma noi non discuteremo Vi ha mai discusso Te la butto lì dai Alla promessa di questo Ecco Parliamo di questa bella roba qua Chiaramente il gruppo Jedi Per chi non lo sa È quel gruppo che Raggruppa appunto La stampa Repubblica Il messaggero L'espresso Radio Capita Radio DJ Corriere Mezzogiorno Eccetera Che mi sembra già Tutto un bel cucuzzaro La prima volta Che ho partecipato All'evento della stampa Mi sono detto Guarda non ci sono Parla di tutto Non hai nessun paletto Però per favore Non parla di Mobilità sostenibile No Perché chiaramente Il gruppo Jedi Fa riferimento Al gruppo Fiat Oggi FCA O meglio Stellantis Quindi è scomodo Che si parli di mobilità sostenibile Così come dall'altra parte Il Corriere L'altro grande giornale Nel nostro paese Oltre forse Alla stampa Repubblica Che sono Il gruppo Jedi Prende tantissimi Finanziamenti Da Eni E allora io vorrei Arrivare su questo E so che Stiamo quasi Running out of time Ma ce la faremo Ne sono fiducioso Vedete una maglia Che indosso C'è scritto La guerra è fossile La pace è rinnovabile Ecco uno dei motivi Per cui indosso questa maglia La verrete indosso Anche a tante persone Allì fuori di me Tanti ospiti Artisti Autori Eccetera In questi giorni E perché il main sponsor Di festival letteratura È Eni Il secondo main sponsor Di festival letteratura È Intesa San Paolo Che insieme a Unicredit È una delle due banche In Italia Che tutti gli anni Dà più soldi All'industria Di combustibili fossili Che ci porta Fondamentalmente Verso il baratro E Eni è Tra l'altro Mi piacerebbe che questa Fosse solo un'opinione Purtroppo è un dato di fatto E purtroppo Intesa San Paolo Ogni anno aumenta I sussidi Gli investimenti Di combustibili fossili Non diminuisce Lì aumenta Eni è l'unica italiana Tra le cento aziende Più inquianti al mondo Le cento aziende Che da sole Sono responsabili Del 71% Delle emissioni A livello globale Allora Io non ero mai stato Ero già stato tante volte a Mantua Non ero mai stato A festival letteratura Per il poco visto finora E quello che avrò modo Di vedere nei prossimi giorni È una bellissima Una bellissima cornice Io credo che però Sia inaccettabile Che Eni possa essere Il main sponsor Di festival letteratura Beh, sai A questo punto Se ti fanno stare qua Ancora Il festival della letteratura Fa parte del gioco Delle parti Però in realtà Eni è stato sponsor Anche del primo maggio Quest'anno E anche lì Io poi non riuscii ad andare E di Sanremo Di Sanremo Ma Di tante cose Perché di nuovo Torniamo al concetto Di chi ha il grano Comunque poi Le cose le può fare E chi non ce l'ha No Però Hai ragionissima Però bisognerebbe Uscire dal concetto Non è il caso Del festival della letteratura Io mi avvicino A un concetto Legato Al perché Un'entità come Eni Sponsorizza grandi eventi Anche musicali Arrivando a parlare Dei grandi eventi Anche del Jova Beach Party Che è stato l'argomento Più discusso di quest'estate Più della guerra in Ucraina Quest'estate abbiamo parlato Più del Jova Beach Party Che della guerra in Ucraina Del calcio mercato È stato l'argomento Più discusso del paese E già fa ridere E Dobbiamo uscire Dalla logica Dei grandi eventi Noi veniamo da una città Che negli ultimi anni Si è ricostruita Dall'addio della Fiat Attraverso i grandi eventi Quindi Dalle Olimpiadi del 2006 Poi si è passati Oggi All'amministrazione Però è l'altro C'è proprio All'amministrazione Appendino Che ha organizzato gli ATP E E l'Eurovision E tutta una serie Di grandissimi eventi Ecco Io Faccio il musicista I grandi eventi sono anche Parte del mio lavoro Ma Io cerco di evitarli Un po' perché non sono grosso Abbastanza da fare un grande evento Da solo Ma perché mi spaventa il concetto Il grande evento Non dà niente al territorio Il grande evento Arriva dall'esterno Si piazza Succhia le risorse E poi sparisce Come hanno fatto le Olimpiadi Come ha fatto l'Eurovisione E non costruisce nulla Per la musica Il grande evento Come il Java Beach Ma ci sono anche andato Io conosco bene Lorenzo Non è questo il punto Il punto è che Prendersela con il Java Beach È giusto Bisognerebbe prendersela Con tutti Con il concetto Dei grandi eventi Che a noi invece Ci piacciono tantissimo Perché oggi Uno che va a un concerto Ci va se c'è tanta gente Anche il pubblico È cambiato Quando io ero giovane Andavo a un concerto Non me ne fregavo un cazzo Di quanta gente ci fosse Oggi la prima cosa Che mi dicono le persone Che vanno a un concerto È Eh ma non c'era tanta gente La prima Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto La prima cosa che mi dicono è C'era tanta gente Non c'era tanta gente Allora Noi siamo stati Rieducati Al concetto di grande evento E il grande evento È Anche nello spettacolo La trasposizione Del concetto Di massimizzazione Del profitto Dobbiamo uscire Dalla logica Dei grandi eventi Perché se no Non ricostruiremo mai Dal basso I piccoli I piccoli luoghi Di aggregazione Del territorio Non verranno ricostruiti Dai grandi eventi Non vengono Non serve a niente Quindi Tornando a quello che dicevi tu Io apro un po' di più Il concetto Così almeno io Al festival Ci posso tornare E però Apro sul concetto È il grande evento Che va Va ridiscusso Il nostro appeal Cioè l'appeal Che ha su di noi Il grande evento Dobbiamo uscire da lì E ricominciare a ricostruire Perché l'unico modo Per ripartire È ripartire dal basso Se noi continuiamo A pensare Che solo le cose grosse Possano funzionare Non ripartiremo mai Perché le cose grosse Hanno dentro Eni E tutto il resto Certo Però credo Se parliamo di cambiamento climatico E parliamo Credo dell'urgenza Del nostro tempo Vabbè questo senza dubbio Individuare che ci sono Dei responsabili Delle persone che invece Sono meno responsabili C'è ingiustizia climatica E ci sono anche dei nemici Ci sono dei nemici Alla creazione di cambiamento Ci sono nemici A un'alternativa E io credo che Le aziende dei combustibili fossili Che sono Petrolio Gas E carbone Chiaramente Servirà una transizione Per arrivarci Parliamo per questo Di transizione ecologica Anche se abbiamo un ministro Della finzione ecologica Purtroppo che ieri Ha deciso di Riportare al massimo Le centrali a carbone Che stavano prese Dismesse Che è una scelta Che guarda assolutamente Verso il passato E non di sicuro Verso il futuro Ecco io credo che sia Giusto anche Individuare un nemico E allora Finirei Quasi Magari Diamo 4.5 minuti Che bello Leggendo Un pezzettino Di quello che hai scritto La necessità La necessità di avere Un nemico Non risponde soltanto All'esigenza Tipica del rap E dell'ego tripping Che lo caratterizza Noi stiamo parlando Del famoso nemico Non stiamo parlando Del famoso nemico immaginario Il mio nemico Non è immaginario Se mi schiero contro qualcosa A qualcuno Faccio riferimenti precisi E spesso proprio nomi e cognomi Parafrasando Umberto Eco Avere un nemico È importante Non solo per definire La nostra identità Ma anche per procurarci Un ostacolo Rispetto al quale Misurare il nostro sistema Di valori E mostrare Nell'affrontarlo Il nostro valore Tanto è importante Che in mancanza Di un nemico reale Serve costruirne uno Tutta la black music È nata Dalla necessità Delle comunità afroamericane Di crearsi un'identità Proprio in contrasto Alla white supremacy Ad esempio Oltre a rappresentare Una questione identitaria Quindi il conflitto E la competizione Rappresentano un motore Ed è per questo Che mi spaventa La retorica Dell'annullamento totale Del conflitti Lo scontro tra idee diverse Genera discussioni Grazie alle quali Ci si muove Entrambi Dal proprio punto di partenza Ecco Ti farei fare Un commento su questo Se tu o Pippo Citate Odiare ma scalzone È cosa nobile In questo caso Io avrei citato In realtà Guccini Con i bugli I prepotenti Da sempre Mi balocco E Non so Di Beh abbiamo citato Da Umberto Eco A Guccini Ne abbiamo citati tutti No però E anche Cico Mendes E anche Cico Mendes No però io sono davvero Convinto di questo Cioè E torniamo anche un po' Al discorso delle proteste Più o meno pacifiche È stato demonizzando Il conflitto Che in qualche modo La lotta si è arrestata E continuiamo a demonizzarlo Tuttora Nel senso che poi Viviamo comunque In un mondo in cui È tutto molto conflittuale Ma il concetto Di conflitto aperto Viene demonizzato totalmente Mentre invece È un motore il conflitto Mentre invece Avere qualcosa Contro cui lottare E equivale a avere qualcosa Per cui lottare Perché c'è sempre qualcosa Che te lo impedisce Se no ce l'avresti Quel diritto La casa E tutta una serie Di altri diritti Che vengono negati Quotidianamente Quindi Il punto è Che bisognerebbe Tornare a Dare il giusto valore Al concetto di conflitto Senza doverne fuggire Spaventati dal fatto Che tutto possa degenerare In maniera incontrollata In qualcosa Che ci porta Che diventa per forza Violenta Ci si può confrontare Fra idee diverse Anche senza essere violenti Nel farlo Ci si può confrontare Fra idee diverse E già questo dovrebbe essere Una cosa che ci siamo dimenticati Ci si può confrontare Fra idee diverse Ci si può confrontare Si può cambiare idea Nella vita Si può dire Guarda Ciò pensato Si può anche addirittura Avere a che fare Con qualcuno Che proprio non ci piace Per quello che pensa E parlarci comunque insieme Tipo Granata Tipo Però anche un po' più Un po' di più Un po' di più Noi siamo quattro gatti Anche qualcuno in più No nel senso che A me questa cosa A me spaventa proprio La fuga dal conflitto Perché davvero E' lo stesso metodo Col quale intervengono I black bloc A Genova E tutto diventa Una manifestazione Di black bloc E' lo stesso principio Se tu trasformi tutto Attraverso dei racconti Che il conflitto E' sbagliato a prescindere Qualunque tipo di conflitto Diventa quel conflitto lì E quindi bisogna Annichilirlo Bisogna essere tutti D'accordo per forza E fingere di vivere In un mondo In cui i conflitti Non ce ne sono Quando in realtà Sono evidenti Quando in realtà L'unico modo che hai Per annichilire il conflitto E' chiuderti Nella tua bolla Perché l'unico modo Che abbiamo avuto Fino ad oggi Per evitare i conflitti E' chiuderci Nella nostra bolla E non cresci mai E torniamo a leggere I giornali Che ci dicono Che abbiamo ragione E siamo sempre Inizio Ma è quello Il centro davvero Di tutto oggi Per qualunque lotta sia E' uscire Dai propri confini E dalla propria bolla La mia più grande Urgenza oggi Comunicativa E' quella di cercare Di convincere me stesso In primis E poi tutti A uscire dalla propria bolla A uscire dalla logica Per la quale Bisogna leggere solo Ciò che ci dà già ragione Guardare i telegiornali Che dicono Quello che vogliamo sentirci dire E parlare solo con persone Che la pensano come noi Perché così Non si va Da nessuna parte Ci si restringe sempre di più E non succede un cazzo Fondamentalmente Grazie Non ce l'ha bisogno Secondo me Il tentativo di uscire Dalle nostre bolle E' forse una delle sfide Più grandi In assoluto Nel nostro tempo E vado verso L'ultimista domanda E non guarderò più a sinistra Perché non voglio Vedere cosa mi dicono Dovremmo chiudere Ma ci prendiamo ancora Qualche minuto Hai citato i grandi eventi Hai citato Giove Beach Party Hai praticamente Insomma Ci sei passato accanto Tutto il mondo Della filiera Della musica E allora Tu scrivi Come fa a reggersi in piedi La filiera Attraverso la quale Si produce un disco Se ogni settimana Esco centinaia di nuovi progetti Di nuovi singoli Nuovi dischi E se una persona Qualsia Si che ha seduto tutorial È un home studio Riesce a fare a costo zero Da casa dischi Che raggiungono Il primo posto in classifica Pensavo di aver letto male Non è vero Non pensavo di aver letto male Ma mentre leggevo queste parole Ho sostituito La parola disco La parola libro No Io e te abbiamo pubblicato Entrambi Penso un solo libro Sì ed anche l'ultimo Per me E E c'è lo stesso problema No Sì Ma di nuovo Il problema è Che non è un problema Aspetta Non posso farti due domande Assieme così Al corpo No scusami Non ti fermi mai Non è colpa mia Ma infatti questa era Una domanda sua E che qui Ne c'è stata una risposta Ma per brevità Ti faccio anche l'altra Stamattina io ero a Venezia Ma io non è che sono per la violenza No no certo E Anna una ragazza Ci sono anche lì le sfumature Certo 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 Però penso che la disobbidenza civile Non violenta Quella praticata in particolare Da Extinction Rebellion Possa essere una buona sfumatura Ecco Una ragazza Anna Mi chiedeva Avendo visto la mia storia Insomma Avrei fatto l'evento con te E Chiedi a Willy E io ti faccio le domande scomode Che cosa è cambiato Dai tempi di 1, 3, 1, 2 No? Da quel pezzo L'hai fatto E io ti chiederei Come ultima domanda Sei contento Della tua evoluzione musicale Ammesso che dicevi Insomma Sono tre domande difficili però Sono due credo Ma te ne faccio una quarta Se sono tre Cioè quella dei dischi come i libri Cos'è cambiato Con 3, 1, 2 Se sono contento Avevi detto che stavi andando Col vento in popo Prima della pandemia Eh sì E poi è arrivata la pandemia Eh sì E adesso si riparte E quindi provo a rispondere Cosa vuoi di questo Ma no aspetta Questo è troppo lungo Secondo me la pandemia Non ha tagliato le gambe a me Perché poi tutto sommato Sono comunque una persona fortunata Non so come sia possibile Però è così Ha tagliato le gambe Al movimento dell'indie L'indie che era nel 2019 Era Quello che portava tanta gente A qualunque concerto Quindi Ma vale per me Vale per Coes Vale per Fraquinta Vale per tutta Tutta quella scuola lì Si è un po' fermato È cambiata la musica È cambiato il pubblico Sono cambiate tante cose Negli ultimi tre anni Quindi si è un po' fermato Il movimento Anche per colpa nostra Perché non ci siamo rinnovati Perché Perché in qualche modo Di nuovo Ti fai un po' abindolare Dal concetto per il quale Il grande La grande hit è più importante Che fare un bel disco E i numeri sono importanti Quindi un po' è anche colpa nostra Non ha scritto Coes Qualcuno Se seguite Coes Ha scritto un ragionamento Per cui Che è colpa mia O colpa vostra Che c'è merda in classifica È colpa di tutti Secondo me È più colpa degli artisti Però che del pubblico Perché il pubblico È diretta emanazione Dell'artista Se tu non gli dai alternative Il pubblico È giusto che decida Che non ci piace più Questo genere Ne ascoltiamo un altro Direttamente E questa è una cosa Quindi Si è fermato tutto Bisogna ricostruire E sono cambiate tante cose Bisogna ragionarci Però l'indie è un po' spento Perché ha perso La sua valenza Alternativa Underground È diventato il mainstream E di nuovo Così per il rap Quando due generi Di che nascono di rottura Diventano mainstream Perdono la loro validità E di conseguenza Tutto si Si appiana Tutto si Esatto Tutto si semplifica E tutto Si assomiglia E quindi Non è più interessante E da un lato questo Sono contento Sono convinto Di aver fatto Un percorso coerente E questo Mi tranquillizza E mi rasserena Non sono contento Ma non lo sono mai Però sono convinto Di non aver tradito Me stesso Il me stesso Che ha iniziato A fare questo lavoro Per quanto io Non scriva oggi 1,3,1,2 Sono la stessa persona Ho capito A 37 anni Rispetto a quando ne hai 20 Ti capisci che ci sono Le famose sfumature Anche nel linguaggio Che si può cercare di Soprattutto che se hai Un messaggio Se sei convinto Di avere qualcosa da dire È più importante Dirlo a tante persone Che non dirlo forte a due E quindi Magari cambi Il modo di comunicare Perché speri Non di fare tanti numeri Ma di aprire Il pubblico Per arrivare a più gente possibile Per dire qualcosa E quindi questo È quello che mi rende Consapevole Di aver fatto un percorso coerente Al tempo stesso Io sono cambiato tanto Da quando scrivo quei pezzi Da lavorare in un call center A fare musicista Cambia tanto Cambia anche solo La quotidianità E quindi La rabbia che hai Dovendoti svegliare tutti i giorni Per andare a lavorare In un call center Fortunatamente la perdi Potendoti svegliare Allora che vuoi Tutti i giorni E lavorando Scrivendo quello che ti passa Per la testa E quindi Sono cambiato io Perché mi sembrerebbe ingiusto Far finta di essere arrabbiato Nel suo modo Per chi tutti i giorni Va a lavorare davvero A differenza mia E quindi sarebbe una presa in giro Fare finta che non sia cambiato niente Per me Io sono Ribadisco Una persona fortunata L'editoria Il covid Sì Ma perché Di nuovo Ho sbagliato il principio Per il quale Si era confiata troppo la bolla Nella musica soprattutto Per la logica Dei grandi eventi E quindi Cercare di fare Tutti i concerti grossi Se un artista è grosso In Italia fa Un tour di 10 date D'inverno E 15 festival grossi D'estate Se sei grosso davvero Basta guardare I grandi nomi Di quest'estate Fanno i palazzi E i palazzi sono sempre Nelle stesse 10 città d'Italia Fai i festival grossi Che sono sempre I soliti 15 d'Italia E questo è il problema Sei un grande artista Solo se fai 30.000 persone E quindi nessuno fa più Un percorso Con un artista come me Che arriva da Io prima di firmare Con una grande multinazionale Dei concerti Arrivavo da un tour In cui ne facevo 100 date all'anno E oggi che ho firmato Con una multinazionale Perché di base Quello è E non mi nascondo dietro un dito Non li posso fare 100 concerti Perché facevo Tanti posti piccoli Tanti luoghi Anche dimenticati da Dio Gratis Eventi gratis La festa del Non so A Fabro Scalo A Fucecchio E invece adesso I festival Sono quelli grossi Perché comunque Di nuovo L'agenzia deve massimizzare Il profitto E quindi il concetto è Che così Non si va da nessuna parte Secondo me Bisogna di nuovo Tornare a ricostruire dal basso Cercare però Di creare L'ambiente Nel quale abbia senso coltivare E quindi ripartire dal Un movimento che crei però Musica che possa essere suonata Nei locali piccoli Perché se anche i ragazzi oggi E di nuovo Tutto si è rotto Quando tu Facendo un pezzo Eri famoso Su Spotify E ti comprava Una grande agenzia E cominciava a girare A un cachet Che era fuori mercato Senza avere un repertorio Non so quanti concerti Si tratta di voi Ma c'è un sacco di gente Che fa un concerto E ripete almeno tre volte il pezzo Quattro volte un pezzo Fa tre bis Quella roba non è un concerto Tu non hai il repertorio Per fare una carriera Eppure la grande agenzia Ti compra Perché tu stai funzionando E sa che ti vende In quel posto lì Fai un'ora di concerto Facendo tre volte il singolo E noi andiamo via contenti Da quel concerto lì Cioè la domanda che mi faccio io È Perché come fa il pubblico Ad andare via contenti Da quel concerto lì Eh ma la domanda La faccio io a voi Perché io Ho avuto la fortuna Di essere vecchio Quando ho firmato Il mio primo contratto Avevo 34 anni Quando ho firmato Il mio primo contratto Disco grafico E grosso Con Universal E più o meno La settimana Quando ho firmato Il mio primo contratto Con una multinazionale In realtà è una piccola branca Ma è Figlia della holding Quindi comunque Ero grande Avevo una carriera Avevo una struttura Fisica e mentale Tale per cui Non E quindi io Non faccio testo In questo caso Perché per quanto io Possa essere nuovo Rispetto al grande pubblico Arrivo da Una carriera ventennale Per tutti gli altri Non è così E se l'artista Per primo Si lascia prendere in braccio Dalla prima proposta grossa Non fa nulla Per combattere Questo meccanismo E soprattutto Si dimentica Che domani Ce ne sarà uno Più bravo di lui Più giovane di lui Che gli porterà via al posto E per i libri Vale uguale L'editoria deve comunque Far fronte a una crisi economica E lo può fare solo Vendendo libri Di gente che è già famosa Senza che tu hai bel letto il libro Compri il libro Di qualcuno Che è famoso per il nome Perché fanno scrivere Cosanti libri ai cantanti Perché fanno scrivere Cosanti libri agli influencer Perché c'è gente Che compra il libro Solo perché legge il nome Di chi già conosce E dello stesso principio Della musica Hai fatto una hit E allora vendi A prescindere E allora un cantante Domani farà Le cartelle Come la Ferragni E allora venderà Venderemo la qualunque Perché già siamo quello Già siamo influencer Già siamo gente Che fa di V tutto il giorno E allora devo Tra una canzone e l'altra Promuverti Non lo so Lo shampoo Il paio d'occhiali Le scarpe No Io lo dico E questo giro Lo dico consapevolmente Perché So Tutte le volte Che ho detto di no Alle proposte Che mi sono arrivate E dopo Sanremo Te ne arrivano tante E non sono eticamente Migliore degli altri Ma l'ho fatto perché Cito Bill X Perché mancava giusto Bill X Nella citazione Dei grandissimi nomi Se un artista Fa una pubblicità Da quel momento in poi Si sa qual è il suo prezzo Ma non ha più nessun valore Fine della chiacchierata Direi che possiamo Concludere così Grazie a tutti Questo ci sembrava Un buon finale Grazie mille A Giorgio A Willy Speriamo Anzi Siamo sicuri Che questi Trenta minuti Abbondanti Ma noi ne avremmo fatte Anche di più Critica Conflitto Juve Toro Abbiano lasciato il segno Per quello che riguarda Gli accenti Ci rivediamo alle 21.30 Metteremo l'accento Sui racconti Con Francesca Scotti E Marta Che le intervisterà E invece De mattina Alle 9 E sarà complicato Ma ci rivedremo qua Con Giorgio Grazie Buongiorno Con Giorgio Gritti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Pronto Vi propongo di fare una foto tutti insieme Dietro a Willy E Giorgio Grazie a tutti